di Andrea che vedo già che si è spostata appunto nella sua cucina di casa ed è già pronta a prepararci qualcosa di buono e appetitoso. Jenny do a te la parola, spiegaci cosa stai per preparare, quali sono gli ingredienti e conduci tu adesso. Eccoci Stefano, allora grazie, così prepariamo subito qualcosina di simpatico per gli spettatori. Allora la mia idea è quella di farvi proprio un'idea simpatica per aperitivo, la prepareremo, si chiama, faremo dei lollipop di formaggio in questo caso, una cosa che realizziamo veramente in un attimo. Allora dosi e ingredienti, allora qui ho inserito 25 grammi di pecorino grattugiato e 25 grammi di parmigiano reggiano sempre grattugiato, allora questa è una dose per realizzare all'incirca sei di questi lollipop che poi andrete a vedere. Allora nel frattempo divido questa dose su tre ciotoline, va bene? Perché così potremmo farci tre gusti in modo da soddisfare un pochino i gusti di tutti che dite. Ecco qua, allora a questo punto su ogni ciotolina andiamo ad aggiungere un ingrediente che oltre a dare colore darà anche sapore. Allora nel primo inseriamo un po' di paprika dolce, allora io desidero così prepararla e farla rossa, però ad esempio potreste inserire anche altre spezie, tipo ad esempio della curcuma o del curry a seconda di come vi piace. Per quanto riguarda la dose, in questo caso è un po' ad occhio, adesso vi faccio vedere, praticamente va inserita la spezia fino al raggiungimento del colore che più diventa interessante, va bene? Allora, questa prima l'abbiamo preparata, nella seconda invece andiamo ad aggiungere dei semini di zucca, quindi questo lollipop diventerà anche un pochino croccante, va bene? E quindi ne aggiungiamo qualche cucchiaiata e andiamo a mescolarci il tutto. Mentre per quanto riguarda il terzo gusto facciamo con dei semini di papavero, oppure se piace potete mettere anche dei semini di sesamo ad esempio, quindi ognuno poi può personalizzarli. Ecco qua. Allora, fatto questo io mi vado a servire del piatto del forno a microonde, perché visto che lo realizziamo veramente in un minuto e i tempi sono sempre un po' restretti, adesso utilizzerò il microonde, però ad esempio a casa con due minuti di forno tradizionale potete ottenere lo stesso risultato. Quindi, piattino, prendo una carta forno, vado ad appoggiarla, magari mi sposto un pochino così riuscite forse a vedere meglio. Allora, mi vado a servire di uno stampino, esattamente questo rotondo, sono degli stampini per tagliare la pasta frolla, ma in cucina si possono utilizzare per un sacco di altre cose. Quindi lo posiziono, vado a prendere la mia prima ciotolina, quella che abbiamo preparato con la paprika, ci metto giusto due cucchiaini e vado poi con il dorso del cucchiaio faccio un po' di pressione in modo da far aderire bene allo stampo e poi piano pianino lo tolgo. Ok? Adesso inserisco il bastoncino, lo stecchino, lo appoggiamo proprio qui e andiamo ad aggiungere ancora un pochino di composto esattamente sopra, anche se esce un pochino dalla forma, non succede nulla perché poi vedrete quando si cucina diventa assolutamente molto molto simpatico. Adesso ci prepariamo il secondo, ecco qua, mettiamo subito due cucchiaiate di questo, di questo preparato che abbiamo fatto con tutti questi semini di zucca, ecco magari ne mettiamo anche qualcuno qua sopra, sempre un pochino di pressione in modo da far bene aderire allo stampo e pianino, pianino lo togliamo. Ok? Andiamo a inserire nuovamente lo stecchino, ecco qua, e aggiungiamo ancora un pochino proprio dove abbiamo inserito lo stecchino. Quello serve per sostenere lo stecchino? Assolutamente, certo. Adesso facciamo l'ultimo gusto, ecco qui, quindi sempre due cucchiai, non deve essere troppo sottile la cialdina che andiamo a preparare ma nemmeno troppo spessa, quindi quando riempite diciamo con due cucchiaini quindi siete bene. Allora io adesso lo sto realizzando con questo stampino di una misura diciamo media, si può anche utilizzare uno stampo anche un pochino più grande volendo. Perfetto. Ecco qua facciamo questa piccola aggiunta, a questo punto sono pronti. Andiamo a inserirli esattamente un minuto preciso al microonde a massima potenza, se invece volete utilizzare un forno tradizionale fatte due minuti a duecento gradi. Quindi due minuti a duecento gradi in forno normale, un minuto al massimo in forno a microonde. Guarda, un minuto, programmiamo. Ok, nel frattempo cosa facciamo? Mi prendo un pochino di formaggio di latteria perché volevo aggiungere poi a questo stecco che andiamo a preparare anche un piccolo cuoricino di formaggio. Allora, sempre stampino, vedete, uno stampino a cuore, sempre gli stampi italiani cotti, si possono utilizzare anche per creare delle forme sia con del formaggio sia con dell'affettato. Ad esempio la mortadella o il prosciutto cotto si prestano estremamente bene per essere tagliati con varie forme, questo è il cuore, la stella, tutti gli stampini che volete. E già dai un tocco particolare ai tuoi piatti con questi stampini, è già qualcosa in più. Una piccola coccola ai nostri amici che vengono a farsi l'aperitivo. Certo. Ecco qua. Quindi ne facciamo, questi sono due, adesso facciamo il terzo. Qui sì, una cosa semplice che ognuno può avere in casa o comunque comprarla per pochi euro e dà già un tocco diverso alla sua cucina, ai suoi piatti e ai suoi aperitivi. Quindi intanto sono passati quasi 30 secondi. Adesso andiamo a prenderci del forno i nostri stessi che abbiamo preparato. Ecco qua. I nostri lolly pop. Giusto un secondo che si raddensano. Nel frattempo mi prendo anche un calice che così poi andiamo a posizionarli. Vedete, io ho preso proprio un calice e l'ho riempito con del riso perché mi permette di avere una base che mi darà sostegno per poi attendere questi lolly pop che stiamo andando a prepararci. Va bene? Perfetto. Allora, paletta e ce li recuperiamo. Ecco qua. Vedete? Ottimo. Ho già la colina in bocca. Adesso andiamo ad inserirci anche un cuoricino di formaggio. Ecco qui. Ah, bellissimo. E andiamo inserirci perfettamente nel nostro bicchiere. Adesso ci prendiamo l'altro. Ecco qui. Inseriamo il cuoricino. Poi ovviamente si può anche qui aggiungere un'olivetta, un pomodorino. Poi con la fantasia ognuno di noi può integrare. Beh, mi sembra una ricetta molto semplice, veloce perché l'hai fatta veramente in cinque minuti davanti ai nostri occhi. che è una delle tante ricette che tu proponi sulla tua pagina Facebook, ripeto, Jenny Food Lover. E questi sono piatti appunto semplici. Io adesso vorrei essere lì per assaggiarlo, purtroppo invece siamo a distanza. Sai cosa propongo sia ai nostri telespettatori che ai tuoi amici follower? Di provare a farla a casa e mandare una foto di come viene a casa loro, come la riescono a preparare. Così vediamo se ha fecchito. Ecco, poi se volete potete creare anche la ciotolina inserendo dei popcorn, per esempio, oppure delle noccioline. Ecco, questo è un po' un piccolo modo per presentare un'idea veloce per accompagnare il camice. Jenny, sei stata veramente squisita, è proprio il caso di dirlo, gentilissima, sei stata nei tempi e hai fatto una ricetta semplice ma accattivante. Io veramente ti ringrazio, ti auguro ogni fortuna per la tua pagina e ti ringrazio per l'ospitalità. Grazie mille a tutti voi, grazie a te Stefano per l'occasione che mi avete dato. Ecco, ricordo prima di salutarti che appunto chi vuole seguirti può andare sulla tua pagina Facebook, quella personale è Jenny D'Andrea, però quella in cui appunto tu mostri tutte le tue ricette e hai il feedback anche con gli amici è Jenny Food Lover. Cerchiamo di arrivare a 100.000 quanto prima, altrimenti possono andare anche sulla tua pagina Instagram che mi sa che crescerà anche quella ulteriormente. Grazie ancora, tanti saluti, ti saluto, spazio alla nostra prossima rubrica Shaker Movie. Grazie a te Stefano. Grazie a tutti.